Tu sei, tu sei, è come un specchio, ti vedi? Certo, è un impegno che prendono con voi in questo momento, chi è da specchio? Da chi è? Muove, più chiaro, più chiaro, a qualche mese di distanza posso dire che su quel passaggio al livello è un punto è un guasto, è chiaro che i guasti non sono l'unico eh? Perfetto, buono, la scienza, la scienza, la scienza è il futuro.